Legata con un nastro, avvolto in un lenzuolo, in mano l'aggressore aveva un accendino che ha acceso, ti brucio viva. La vittima è una 24enne prostituta albanese che, terrorizzata, è riuscita a dimicolarsi e fuggire tra i campi. Ha raggiunto una strada più vicina, più trafficata ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e quindi siamo intervenuti per il soccorso insieme al personale sanitario. Stremata, scalza, con i vestiti strappati e sotto shock, ha riportato alcune lesioni, ma la ferita più difficile da guarire sarà il terrore che ha vissuto in quei drammatici momenti. Il grave episodio è accaduto in Via Rova a Villorba. L'uomo, 44 anni di Comoli, si è avvicinato con l'auto con la scusa di volere una prestazione sessuale. L'ha fatta salire e poi si è diretto verso Via Trieste, in una zona appartata. Qui è scattata la trappola, le ha legato le mani con il nastro isolante e poi l'ha letteralmente fasciata con un lenzuolo che le copriva il volto e metà del busto. Le ha immobilizzato le braccia, stringendole un laccio all'altezza della vita e le ha applicato del nastro adesivo all'altezza della bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto. Voleva i soldi, voleva rapinarla. Le ha portato via la borsa con 350 euro, il cellulare e i documenti personali. Immediate le indagini che hanno portato in due mesi a identificare e arrestare il 44enne. L'uomo recidivo era uscito dal carcere a gennaio, dove aveva scontato 5 anni per un episodio analogo. Aveva aggredito una prostituta in zona Preganziol, insomma un aggressore seriale gravato da numerosi precedenti come rapina aggravata, lesioni e violenza sessuale. Indagini complicate perché la vittima aveva solo fornito l'indicazione dell'auto utilizzata, una punto rossa. L'attività investigativa che la stazione Carabinieri di Villorba ha svolto è passata attraverso il setaccio delle telecamere che ci sono in quella zona e in quel territorio e attraverso le varie telecamere che fortunatamente garantiscono e concorrono nella sicurezza del territorio sono riuscite a individuare il frame, il passaggio di una macchina, una punto rossa appunto che è il risultato utile ancorché non si leggesse la targa. Poi gli accertamenti hanno portato a individuare l'auto dell'aggressore nei pressi di un esercizio commerciale accertando come la stessa fosse intestata alla madre dell'indagato. Il 44enne aveva premeditato l'aggressione, in auto aveva tutto, nastro e lenzuolo. L'arresto è avvenuto a Silea a casa di un'amica. I Carabinieri hanno dovuto fare intervenire i vigili del fuoco perché si era barricato dentro e non voleva uscire. Poi le trattative lo hanno portato ad esistere, ora in carcere a Treviso con l'accusa di rapina pluriaggravata.